Ciao a tutti! Guardate! C'è Simone! C'è Simone! C'è Simone! È l'ora di una nuova missione! C'è Simone! C'è Simone! C'è Simone! Grazie a lui saremo tutti salvi! Super coniglio! La pianta degli spaghetti! Nonna! Nonna! Cosa c'è per cena? Una bella zuppa di zucca! Ma a noi non piace la zuppa di zucca! Non è buona! Ma se non l'avete mai mangiata! Prima di dire che non è buona dovete assaggiarla! Sono sicuro che a me non piacerà! Oh, non fare così! Vedrai che invece è molto buona! Va bene, però non ne sono sicuro! Neanche io! Non amerò mai la zuppa di zucca! Non preoccuparti, Gaspare! Puoi sempre fare cambio con le mie deliziose zucchine! Ho appena piantato altri semi di zucchina! Perché non coltivano qualcos'altro invece di zucchi e zucchine? Oh! Magari la pianta delle patatine! Oh, sì! Anzi, meglio la pianta degli spaghetti! Io amo gli spaghetti! Senti, Gaspare! E se facciamo finta che sono semi di spaghetti? Sì, dai! Ma dovranno crescere velocemente! Questa è una missione per la squadra dei superconigli! Mova missione! Giusto! Mega! Fantastica trasformazione! Vai, Capitan Coniglio! Pianta il seme degli spaghetti! Pistola d'acqua su, annaffiatoio! Ehi, ma questa non è la pianta degli spaghetti! È una mega zucca super grande! Aspetta e vedrai! Scommetto che questo è un seme di spaghetti! Boh, non ne sarei così sicuro! Tada! Wow! Una vera pianta degli spaghetti! Dai, vieni con me! Saliamo in cima! Gnom, 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 gnom! Ci sono tantissimi spaghetti! Il professor lupo! Che cosa hai in mente questa volta? È ormai l'ora di cena per me e adoro gli spaghetti! Smettila subito, lupo ingordo! Non puoi mangiarti tutti i nostri spaghetti! Ma non sono i vostri spaghetti! Non c'è scritto da nessuna parte che la pianta è vostra! Invece è la nostra pianta! La la la! Non ti sento! La la la! Non ti sento! La la la! Farsi da solo la tua pianta degli spaghetti! Eh? Che cosa hai detto? Non ho sentito nulla! Ha detto che la pianta è nostra! Oh no! Ciao, ciao, miei cari coniglietti buffi! Super astronove! Riprendiamoci gli spaghetti! Forza! Più veloce! Più veloce! Mega a mano! I miei spaghetti! Gli spaghetti sono di nuovo nostri! Addio, professor lupo! Anche io la mia super astronave spaziale! Giga astronave! Questo è mio! Grazie mille! No! I nostri spaghetti! Copertina esplosiva! Oh no! I nostri spaghetti! Ma cosa avete fatto? Io odio la zucca! È super disgustosa! È colpa tua che hai rubato i nostri spaghetti! Tuo mamma non ti ha insegnato che devi sempre prima assaggiare per poter giudicare! Ah sì? Perché tu, super coniglio, sai che sapore ha la zucca! Eh? Eh? Beh... No! Ah ah! Lo sapevo! Hai paura di assaggiarla! Hai paura di assaggiarla! No, è vero tu! Hai paura di assaggiarla! No, no, no! Sei un pauroso anche se dici di no! Ma allora facciamo così! Il primo che lo farà sarà il vincitore! Ho vinto! È disgustosa! Non riuscirei mai e poi mai a mangiarla! Missione completa! Simone, Gaspare, la cena è pronta! Non sai, nonna, questa zuppa è buonissima! Sì, è buona quasi quanto gli spaghetti! Ciao a tutti, guardate! C'è Simone, c'è Simone, c'è Simone! È l'ora di una nuova missione! C'è Simone, c'è Simone, c'è Simone! Grazie a lui saremo tutti salvi! Super coniglio! Il ladro di caramelle! Mamma, possiamo prendere le caramelle? Va bene, Simone, ma uno a testa, altrimenti vi fanno male! D'accordo, lo promettiamo! Super buona! Possiamo prenderne un'altra? Una sola e basta! No, Gaspare, lo abbiamo promesso alla tua mamma! Forza, usciamo a giocare! Aspettatemi! Quelle caramelle sono buonissime! Ha ragione, quelle caramelle sono troppo buone! Ehi, e se ne prendessimo solo una in tre? Ehi, ma il barattolo! Dove sono le caramelle? Guardate! Delle impronte! Forse sono le impronte del Professor Lupo! Ma sì, certo! Potrebbero essere del malvagio Professor Lupo! E la squadra dei super conigli andrà a recuperarla! Giochiamo! Nuova visione! Super! Affì! Mega! Fantastica! Transformazione! Queste caramelle sono deliziose! E' laggiù! Giù le zampe dalle nostre caramelle! Ora sono mie! Sei stato tu a prenderle! Ridaccele, ladro di caramelle! Perché non vai da tua mamma a chiederle? No, 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 no! Sì, sì, sì! Ok, ve le ridarò se sconfiggerete il mio Giga Robot! In una gara super mega difficile! Non ce le restituirai mai! Non sei altro che un bugiardo! Io un bugiardo? Ve lo prometto, lo giuro! E ora che cosa facciamo? Non riusciremo a batterlo! Il Giga Robot sembra troppo forte! Ehi, siamo la squadra dei super conigli! Non abbiamo paura di niente, ok? Va bene, accettiamo, Professor Lupo! Ah, ora sì che inizia il divertimento! La sfida ha inizio! Che vinca il migliore! Giga Robot solleva quella pietra! Sì, signore! Professor Lupo! Vediamo se riuscite a sollevarla, piccoli deboli conigli! Super Lulù, alla riscossa! Dai, dai, Super Lulù! Dai, dai, Super Lulù! È troppo pesante! È l'ora di usare i miei super muscoli! Super muscoli! Ce l'ho quasi fatta! Serve la tua copertina esplosiva, capitano coniglio! Copertina esplosiva! Allontanati! Che sta per esplodere! Ta-da! Copertina esplosiva! Ce l'abbiamo fatta! Ci sono riusciti! Ora resta di usci le caramelle! No, adoro queste caramelle! Sono troppo buone! Me le tengo! Lo avevi promesso! Sì, Professor Lupo! Avevamo un patto! Il Professor Lupo non dice bugie! Questa era solo la prima gara! Ed era troppo facile! Ora dovete vincere la seconda gara! Quella finale! E se vinciamo anche stavolta, ce le ridarai? Giuro sul potere del Giga Robot che lo farò! Sono sicuro che sta mentendo di nuovo! Hai ragione! Non fidiamoci! E se ci fidassimo solo un'altra volta? No! Va bene! Affare fatto, Professor Lupo! Ma questa volta per davvero! Sì, davvero! Promesso! Tanto non vincerete mai la gara finale! Non sarai più veloce del mio, Giga Robot! Non esserne così sicuro! Il primo che taglia il traguardo vince la gara! Avete capito bene? Perfetto, Professor Lupo! Uno, due, tre! Vai, Giga Robot! Ehi, ma è partito prima! Non è giusto! Wow! Giga Robot è super mega veloce! Io sono troppo veloce! Sto passando alla velocità supersonica! Robot, velocità supersonica! Siamo troppo pesanti! Così non riusciremo mai a batterlo! Tranquillo, Super Coniglio! Espulsione femmile! Copertino a paracadute! Avanti! Più veloce, Giga Robot! Più veloce! Giga Robot, saltare subito! Quello che faccio! Che è gran'amorica! Ovvero! Abbi va! Io ti amo! E' avanti! Oh no! Il mio Giga Robot! Me lo hai rotto! Ora dovrò ripararlo tutto da solo! Prima devi ridarci le caramelle! Ah! Mi hai creduto di nuovo! Non ve le ridarò mai! Sono tutte mie! Oh, basta, fermati! Avevi promesso di restituircele! Non ti crederemo mai più, profettor Lupo! Oh, mi fa male la pancia! Così impari, pancione peloso, che non sei altro! Sì, missione compiuta! Abbiamo di nuovo le caramelle! E avete mangiato altre, vero? Assolutamente no! Una promessa è una promessa! Parola di supereroe! Ciao a tutti, guardate! C'è Simone, c'è Simone, c'è Simone! È l'ora di una nuova missione! C'è Simone, c'è Simone, c'è Simone! Grazie a lui saremo tutti salvi! Super coniglio! La colonia di formiche! Wow, guarda quante cose portano, Simone! Le vedo, Lulu, sono davvero forti! Ehi voi due, mi ridate la mia palla! Sì, ma fa attenzione a non schiacciare le formiche! Scusa, non sapevo delle formiche! Grazie! Vieni a vedere, Simone, sono super veloci! Ehi voi due, potete ridarmi la palla! Cosa? Ancora? Ora basta, questa volta te la riprendi da solo! Sai che sei antipatico! Addio, formiche! Giochiamo a rincorrere città! Che prova a prendermi! Tanto ora ti prendo, Simone! Perché ti sei fermata? Per la formica! Deve essersi arrampicata su di me! Oh no, povera formica, si è persa! Aiutiamola a trovare i suoi amici! Yuhuu! Ehi, formichine! Dove siete? Perché una vostra amica si è persa! Se ne sono già andate! Oh, e ora come facciamo, Simone? Non riusciremo mai a trovarle! Ce la faremo! Perché questa è una missione per la squadra dei super conigli! Oh sì, hai ragione! Nuova missione! Super! Mega! Fantastica trasformazione! Non preoccuparti, ci pensiamo noi a trovare i tuoi amici! Non capisco che cosa dice! Aspetta un attimo che attivo il mio mega orologio traduttore! Aiuto! Un lupo cattivo ci fa lavorare! Non preoccuparti, vi aiuteremo noi! Super Lulu ha ragione! Portaci da lui! Portaci da lui! Blip, 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 blip! Forza! Sprengatevi! Dovete portare più cioccolata al professor lupo! Giga robot, voglio più cioccolata! Molta più cioccolata! Ci penso io, professor lupo! Forza formiche più veloci, più veloci! Non è permesso scappare! Ma povere formichine! Devono stare agli ordini del professor lupo! Intanto occupiamoci del giga robot! Facciamogli una sorpresa! Più cioccolata! Più veloci, più veloci! Ehi, giga brutto ferro vecchio! Chi è che parla? Indovina! Super coniglio! Hai indovinato! Non capisco cosa stai dicendo! E tu, Super Lulu? No, nemmeno una parola! Grande lancio, Super Lulu! Sì, Super Lulu è sempre con voi! Ce l'abbiamo fatta! Siete libere ora! Il lupo cattivo ha imprigionato la nostra regina nella sua caverna! Ah! Dobbiamo correre a liberarla! Giga robot! Giga robot! Va tutto bene? Cos'era quello strano rumore? Va tutto bene, professor lupo! Ora le arriverà un pezzo enorme di cioccolata! Ehi, ma è fantastico! I pezzi enormi sono i migliori! Cos'è in mente, Super Coniglia? Ha una nuova idea! Non ho mai visto un pezzo così grande di cioccolata! Sorpresa! Bravissimo, Super Coniglia! Non posso crederci! Non posso neanche mangiarmi la cioccolata in santa pace! Cosa? E tu che cosa vuoi da me? Oh! Allora in poi impara a procurarti la cioccolata da solo! Missione compiusa! Forza, formiche! Tornate a casa! E ora a cosa giochiamo, Simone? Pensi che abbia perso i suoi amici? Ciao a tutti! Guardate! C'è Simone! C'è Simone! C'è Simone! È l'ora di una nuova missione! C'è Simone! C'è Simone! C'è Simone! Grazie a lui saremo tutti salvi! Super Coniglio! Intrappolati dal lupo! Guardami! Super Tiro! Simone! Simone! Vieni! Seguimi! Mi è caduta una copertina nel fiume! E la corrente l'ha trascinata via! Caspita! Non la troverai mai più! Cosa? Non mi dire così! La ritroveremo! Questa è una missione per la squadra dei Super Conigli! Oh sì! Salveremo la copertina! Nuova missione! Super! Super! Ah sì! Mega! Fantastica! Trasformazione! Saltiamo sull'altra riva! Ehi! Ma voi non venite! Attenzione! Sto per saltare anch'io! Voglio la mia copertina! Va bene! Tu aspetta lì con Super Ferdi! Ci pensiamo noi alla copertina! Allora, dove è finita? Dammi un secondo! Seleziono il mio turbo scanner sulla copertina! È da quella parte! La copertina è davanti a te! È da! Oh! No! Vi ho presi! Vi ho presi! Vi ho presi! Vi ho presi! Professor Lupo! Lasciaci andare immediatamente! Oh no 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 no! Vi ho presi! Ah! Ora che siete stati catturati, nessuno si ricorderà più della squadra dei Super Conigli! Non illuderti, professor Lupo! Oh! È Super Ferdi! Super Ferdi, hai detto? Vorrà dire che catturerò anche lui, oltre a voi due! Dobbiamo fermarlo! Fa' attenzione o cadremo! Ma sto per catturare Super Ferdi e Capitan Coniglio! Mega Super Carta! Sei stata fantastica, Super Lulù! Ehi, perché non rispondevi? Avete trovato la mia copertina? Siamo state intrappolati dal professor Lupo! Eh? Non riesco a sentirti! Professor Lupo, cosa? Sono in pericolo! Ma come faremo senza la mia copertina? Dobbiamo provarci lo stesso! Stai scherzando? Resta qui! Se catturato verrai divorato dai suoi denti affilati! Ah! Razzorobot, ho bisogno di te! Ehi! Ehi! Voglio venire anch'io! Mi dispiace, è troppo pericoloso! Hmm... Io non ho paura! Turbo, occhiate! Oh! Ma quelle sono impronte! Ehi, la copertina! Oh, super! Ah! Ah! E sono tre! Ne manca solo uno e avrò vinto! Ah! A me ci sono stato catturato! Aiuto! Super Coniglio e Super Lulù sono già nelle mie mani! Ah! Sono il più forte! Oh, la mia copertina! Sono il più grande! Sono il più super fantastico di tutti! Ehi! Quella Super Testa Verde! Lascia in pace Super Fardi! Copertina Puzzolante! Aiuto! Che puzzo! Sì! Ora pagherai per questo! Ehi, il brutto musone verde! Nessuno può chiamarmi brutto musone! Non ti vergogni di prendertela con i più piccoli! Prima di tutto non è così piccolo! Ragazzi, robot, adesso! Tistola d'acqua a massima potenza! Ora è troppo! Mi fate imbestialire! La tua pistola d'acqua è senza acqua! Ora ci mangerà! Questa è la fine della squadra dei Super Conigli! Non si sperare! Mega Boomerang! Non sai nemmeno prendere la mira! Perché mi guardi così? Mi fa male la testa! Nessuno può sconfiggerci! Missione compiuta! Ho di nuovo la mia copertina! Ed è per questo che siamo la squadra... Super Conigli! Simone! Gaspare! Andiamo a casa! Ma ci stavamo divertendo ad essere... Nessuno deve sapere che siamo supereroi!